Nel 2013 le vittime di incidenti stradali in Italia sono circa 188.000, un dato, quello italiano, diffuso dall'Istat che rispetto agli anni precedenti è sceso del 3,7%, ma che resta ad ogni modo preoccupante. Sulle strade urbane italiane si sono verificati circa 136.000 incidenti, con 184.000 feriti e 1.421 morti. Sulle autostrade gli incidenti sono stati 9.265, con 15.447 feriti e 321 decessi. Proprio per questo l'ANIA, la Fondazione per la Sicurezza Stradale, in collaborazione con il Comune di Napoli, per una settimana consentirà a tutta la cittadinanza di approfondire temi come la sicurezza sulle strade, la guida in stato di ebrezza, con simulatori interattivi e gratuiti. Ascoltiamo l'assessore al lavoro Enrico Panini e Umberto Guidoni, segretario generale di ANIA. Vogliamo mettere a disposizione gratuitamente dei locali napoletani degli etilometri, in modo tale che, sempre gratuitamente, un cliente che ha il dubbio di avere ceduto con il vino o con un liquore possa fare una verifica. Invitiamo i ragazzi tra i 18 e i 26 anni a fare delle prove al simulatore di guida per avere la possibilità di apprendere quali sono le tecniche per affrontare le situazioni di rischio che possono avere sulla strada e per capire quali sono i rischi connessi attraverso il simulatore dinamico alla guida in stato di ebrezza sotto l'effetto di stupefacenti.